A speciale TGT parliamo in questa puntata di energia, un po' a 360 gradi perché da tempo sorge in Toscana una struttura che guida e diciamo così coordina tutto quello che può essere il gas, l'energia elettrica, insomma l'energia in generale. Ma Estra è qualcosa di più perché attraverso la loro esperienza quotidiana entrano nelle case anche con diverse iniziative soprattutto rivolte ai giovani che hanno anche un sogno nel cassetto, una speranza di lavoro per il futuro. Per parlare di questo e non solo con noi in studio c'è direttore generale di Estra Paolo Abati, buonasera, benvenuto. Allora Estra fa tantissime cose perché spazia dalle iniziative, dai progetti verso il futuro che sono rivolti ai giovani non solo ma anche sul fronte culturale con molte mostre, con molte iniziative. Ma c'è qualcosa che ultimamente ci ha un po' incuriosito e anche ha vinto nei nostri telegiornali e c'è un'iniziativa che si chiama E-Cube e c'è una vera e propria start-up call, se vogliamo usare questo termine, che è scattata rivolta a chi intanto direttore? Rivolta a tutte quelle diciamo società o ancora embrioni di società, di iniziative chiamiamole così, che avevano diciamo nella loro ricerca di nuove proposte diciamo di business di idee originali, avevano tre sostanzialmente aspetti, uno era quello della smart home, smart living come si dice, uno è quello del risparmio energetico e l'altro era l'area dei servizi verso la clientela. Quindi si parla da internet in poi? Esatto, da internet in poi, sono queste diciamo normalmente sono fatti da giovani che attraverso la ricerca e la formazione e la sperimentazione riescono a tirar fuori delle proposte di progetti anche molto interessanti, sempre rivolti a questi settori, perché questi per noi sono settori ovviamente importantissimi e abbiamo fatto questa call internazionale, hanno partecipato da tutti i continenti diciamo del terrestre, del globo terrestre, sono arrivate centinaia di proposte, da queste centinaia di proposte ne sono state selezionate dieci che hanno partecipato alla fase finale che poi si è tenuta qui a Firenze presso i palacongressi e da queste dieci poi sono state scelte le tre vincitrici che hanno ricevuto un premio in denaro, ma per noi più che il premio in denaro era interessante con questi soggetti diciamo che portavano questi progetti innovativi poter continuare anche una collaborazione poi successivamente. Ecco, in termini pratici su che cosa hanno puntato l'obiettivo coloro che hanno partecipato a questo vero e proprio concorso? Allora, la maggior parte dei progetti era rivolta soprattutto all'utilizzo, diciamo a nuove forme di utilizzo di internet e delle nuove tecnologie legate alla sfera internet. Le nuove generazioni personalmente sono molto più brave di me per esempio. Beh, anche di me, questo non c'è dubbio, anche perché veramente oggi la ricerca si è spinta talmente avanti per cui vengono fuori anche cose che soltanto qualche anno fa erano impensabili. Forse addirittura qualche mese fa, cioè perché è tutta un'evoluzione, no? Per esempio noi eravamo molto interessati e una delle proposte, anzi la proposta che poi si è giudicata il primo premio era proprio una start-up che si era focalizzata sulle preferenze diciamo degli utenti di internet attraverso i canali più visitati, attraverso le digitalizzazioni più visualizzate, su quello si può risalire anche a una scelta diciamo poi di prodotti da offrire ai frequentatori. Certo. E questo è il progetto che si è giudicato il primo premio. Poi ce n'erano altri. Ripeto, i tre argomenti che per noi erano quelli decisivi erano questo, appunto dei servizi ai clienti, quindi big data, marketing, automation, eccetera. L'altro era quello del risparmio energetico e dell'efficienza energetica. Quello che sta a cuore moltissimo. Esatto. E poi l'ultimo era quello dell'internet of things, cioè tutte quelle cose che oggi possono rendere più smart intanto un'abitazione e poi anche una città. Ecco, quello che ci incuriosisce subito sul fronte della cronaca e dell'attualità è anche quello del risparmio energetico. Ci sono delle idee, degli scenari interessanti su questo fronte? Beh, non c'è dubbio. Non è solo un problema culturale. Non è solo un problema culturale, è un problema anche di vivibilità delle nostre città e delle nostre case. Non è detto che spendendo di più nell'utilizzo dell'energia si abbiano risultati migliori, anzi tutto ci fa, oggi ci dimostra che con un uso razionale dell'energia basata sul risparmio e sull'utilizzo più responsabile, questo aiuta anche a vivere meglio. Fra l'altro in Italia, oggi c'è anche una legislazione che incentiva molto il risparmio energetico, pensiamo alle distrutturazioni, alle spese per le distrutturazioni degli edifici. Ecco, il gruppo Estra si è dotato di una serie di proposte, di prodotti che si basano molto sull'efficienza energetica e che attraverso lo sfruttamento di questi benefici fiscali che sono stati messi in piedi dalla legislazione, offre ai propri clienti soluzioni per contenere i costi della bolletta energetica. Come sta la Toscana, direttore? La Toscana sta messa abbastanza bene, uno perché è una delle regioni con il maggior numero di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, poi è una regione che ha puntato molto anche su progetti di risparmio energetico, sia nell'edilizia pubblica ma anche nell'edilizia privata e quindi la Toscana sta messa molto bene, forse qui siamo anche in una zona particolarmente sensibile dove i cittadini sono particolarmente sensibili diciamo ai temi ambientali. Ecco, quando si sposa ai temi ambientali con il risparmio energetico si fa un'operazione che è un'operazione molto intelligente. Maestro ha guardato in questi mesi anche a quelli che sono i sogni nel cassetto, soprattutto dei più giovani, e cioè l'alternanza scuola-lavoro. Si studia, si fa esperienza, si fa tirocinio, ma lo si può fare anche nei luoghi di lavoro. E c'è un'altra iniziativa che ci ha incuriosito, le devo dire francamente la verità, in questi mesi, ed è questo progetto Power Generation, in cui praticamente con il progetto Erasmus a braccetto questi giovani possono fare dei tirocini in giro per l'Europa e non solo. Sì, fanno questa esperienza di scambio lavorativo e culturale con altri ragazzi che provengono da altre zone dell'Europa. Noi particolarmente interessiamo alcune regioni d'Italia, diciamo la Toscana, le Marche, la Puglia, non mi ricordo quali altre regioni. L'aiuto io, l'Umbria, l'Abruzzo, la Sicilia, la Puglia. Questi ragazzi di alcuni istituti o che sono neodiplomati o che sono sempre studenti possono andare e hanno l'opportunità di andare in altri paesi europei, dalla Spagna al Portogallo, alla Repubblica Ceca, la Romania, l'Irlanda, Lituania, luoghi anche paradossalmente molto diversi dal nostro. Dove andare a fare un'esperienza sia di studio ma anche formativa sul risparmio energetico, vedere come altri paesi europei stanno lavorando e che tipo di iniziative stanno mettendo in piedi sul risparmio energetico. Questo per far sì di formare una generazione di tecnici, di futuri esperti nel settore delle rinnovabili e del risparmio energetico da poter poi spendere sul mercato nazionale. 21 istituti superiori, quindi tanti giovani diciamo pronti a... Sono tanti giovani e tra l'altro se questi si sommano anche alle esperienze già fatte, perché questa è un'esperienza che noi facciamo ormai da 4 anni, quindi questo è il quarto anno, tutti gli anni cresce di numero sia in termini di territori rappresentati che di numero di studenti, devo dire anche questo rappresenta un po' il nostro modo di proporsi diciamo ai nostri territori, noi siamo un'azienda che vende energie elettriche e gas, che lavora molto sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili, ma punta anche molto a una consapevolezza di un consumo critico e soprattutto a creare le basi perché un domani l'energia sia usata il più razionalmente possibile. E volevo tornare un attimo ancora ai Cube perché quando poi, lei lo ha citato poco fa, vince uno che ha partecipato a un concorso, un'azienda toscana che gravita fra Arezzo e Milano, siamo anche più contenti o no? Certo, fra l'altro... Ad Abra, eh? Ad Abra, il concorso era internazionale. Beh, secondo e terzi dalla Francia e dalla Spagna, Parigi e Barcellona. Però che il primo posto non è stato, diciamo non è stato, non ha vinto perché è toscano, ma siamo come toscani tutti molto contenti che abbia vinto un toscano il primo posto. Un'azienda di Arezzo, tra l'altro Arezzo è uno dei nostri territori di riferimento in Toscana, storici, che però ha presentato ed è una proposta di eccellenza, proprio di eccellenza nel settore della customer verso i clienti, siamo rimasti tutti molto sorpresi, però questo vuol dire che anche diciamo nei nostri territori, che la Toscana è molto legata anche alla tradizione, alla cultura, alla storia, però anche in una regione, anzi forse non è un caso se in una regione che si dedica molto al bello, alla storia, alla tradizione, si riesce però a mettere insieme grandi progetti di innovazione tecnologica. Ecco, Estra rappresenta un po' questo, se si volesse fare un parallelismo, è un'azienda molto radicata nel territorio toscano, in zone diciamo dove il bello abbonda, dove la storia abbonda, ma è anche un'azienda che è rivolta all'innovazione Estra stessa e quindi forse è un coronamento questa... Ecco, un coronamento, ma io le faccio l'ultima domanda del tempo che abbiamo a disposizione per chiedere cosa bolle in pentola, quali sono le idee anche per i prossimi mesi di Estra, anche su questo fronte, non solo. Allora, su questo fronte stiamo lavorando a altri due progetti, sempre nella Power Generation per allargare ancora a nuovi settori questa esperienza che per noi è stata molto, molto positiva e ha avuto anche un consenso molto grande anche a livello nazionale. Ovviamente Estra è sempre impegnata anche negli investimenti sul territorio, lei lo ricordava all'inizio, noi siamo presenti dal settore della cultura, dal settore dello sport, sullo sport per esempio noi abbiamo legato proprio il nome di Estra, del gruppo Estra allo sport perché è una cosa, l'energia e lo sport si sposano sempre molto bene. Non c'è dubbio, è una simbiosi mica da poco. Poi da un punto di vista aziendale la cosa che posso dire è che Estra oggi è una realtà diciamo imprenditoriale della Toscana, tra le più importanti, diciamo uno degli orgogli diciamo di questa regione secondo me perché siamo fra le prime aziende nazionali nel settore dell'energia e grazie a questo posizionamento e agli sforzi fatti fino ad oggi per crescere Estra diciamo sarà prossimamente, questo perlomeno è la sfida che ci poniamo, potremmo essere la prima azienda toscana nel settore delle utility a quotarsi in borsa. Io la ringrazio direttore Abati, buon lavoro, ai prossimi appuntamenti perché noi continueremo con particolare attenzione a monitorare anche queste iniziative importanti di Estra in Toscana e non solo. Grazie al direttore generale Paolo Abati, lo speciale TGT si aggiorna. Alla prossima puntata. Grazie a tutti.